La Jaguar dei nostri giorni, grazie ai notevoli sforzi del gruppo Ford, occupa una posizione di primo piano sul mercato automobilistico, con una gamma completa che copre diversi segmenti di mercato. Dopo aver lanciato nel 1995 la nuova gamma di berline X300, oggi il marchio Jaguar può contare su una gamma completa che va dalla piccola X-Type alla S-Type e alla berlina XJ per arrivare alla nuova Coupé XK. Forte anche delle esperienze agonistiche maturate in Formula 1 negli anni passati, la Jaguar si presenta nel nuovo millennio con la classe, l'eleganza, la tecnologia e le prestazioni che hanno sempre reso uniche le auto del Jaguaro.